Salve gente, allora, dormito bene? Io per niente proprio, per nulla, troppo nervoso, troppo deluso, mal di stomaco tutta la notte, io già ne soffro e niente, non sono riuscito a dormire, troppa testa che viaggiava intanto vi ringrazio di non avermi mandato messaggi come richiesto dal video precedente su Instagram sarei stati, insomma, rispettosi della situazione, a parte uno che si è sfogato, vabbè, l'ho lasciato sfogare in realtà dopo diversi messaggi che mi ha mandato, gli ho risposto solo dicendo, gli ho risposto che ce dobbiamo fare questo, per il resto invece non sono arrivati messaggi, invece ne sono arrivati diversi dal primo al secondo tempo che tra un po' vi mostrerò e ve li mostro questa volta, faccio questa cosa che non ho mai fatto perché farò parlare proprio i messaggi, più che io, insomma, più delle mie parole che adesso andranno comunque a dire qualcosa di quello che è stata poi la conferenza post partita di Sarri perché anche ieri Sarri regala qualche perla e dimostra che è lui realmente quello che ha bisogno dello psicologo o comunque qualcuno che gli faccia notare che dice il tutto, il contrario di tutto nel giro di 24 ore prima però tu che stai vedendo questo video, se ancora non l'avessi fatto, come sempre, provaci iscriviti al canale, ti invito a digitare e a cliccare su iscriviti potrai sempre disiscriverti quando vorrai, anche immediatamente dopo, insomma, vatti a vedere qualche video vecchio insomma, vedi tu, provaci, io ti consiglio di provarci, sapendo che ti potrai disiscrivere cliccare sulla campanellina prima del giorno su tutti i contenuti perché altrimenti non ha senso iscriversi a un canale se poi non lo si segue e non si sa quando escono i video nuovi quindi iscriviti, clicca sulla campanellina e comunque, anche se decidi di non iscriverti clicca sul like, lascia un like al video che stai vedendo e ti ringrazio, nostra famo 76, per quelli che vogliono comunicare con me su Instagram ieri ho ricevuto anche messaggi da gente dentro lo stadio, quindi mi ha fatto molto piacere perché comunque a casa è molto più semplice, però tra il primo e il secondo tempo dello stadio non mi era mai arrivato e quindi tra la... proprio da persone che stanno allo stadio e stanno vedendo la partita lì e pensano a me addirittura, grazie ragazzi adesso mostrerò, come vi stavo dicendo, i messaggi che mi sono arrivati tra il primo e il secondo tempo ma prima partiamo dalle dichiarazioni di Sarri e ecco qui ve le metto così vi date anche una letta mentre parlo allora, Sarri ci dice che ci fa capire che la percezione che abbiamo avuto tutti noi è errata perché in realtà sono proprio gli ultimi 15 minuti a farci pensare gli ultimi 15 minuti della partita, attenzione quindi per 75 minuti la Lazio è stata in gioco con gli ultimi 15 minuti purtroppo ci fanno pensare ci fanno vedere una Lazio peggio di quella che è stata perché Sarri sottolinea che ci sono state delle difficoltà durante la partita ma la Lazio è stata sempre in partita anzi ha avuto anche due occasioni nel primo tempo e una nel secondo questo lo dice poi, questo è solo un pezzo, un estratto della conferenza ma se l'andate a sentire sottolinea il fatto come nel primo tempo avremmo potuto parreggiarla subito se Immobile l'avesse messa dentro e poi l'avremmo anche potuta addirittura andare oltre se avesse fatto Immobile anche Zaccagni addirittura nel secondo tempo un'altra occasione per Immobile quindi praticamente potevamo andare sul 3-1 e questo lo dico io perché se uno mi fa questo ragionamento idiota perché è un ragionamento idiota perché prima del pareggio prima di quel tiro famoso che ha sbagliato che ha levato il pallone a Milinkovic e ha sbagliato Immobile ci avevano fatto altri 4 tiri allora caro Sarri, se per te stavamo in partita perché potevamo pareggiarla? sì ma poteva essere anche un 4-1 in quel momento la situazione farla segnare Immobile ma dai pure i gol grazie a Provedere che non abbiamo subito era 4-1 ci hanno fatto una caposcia così ma che cazzo d'analisi fai? ma che ragionamento è? potevamo pareggiarla sì potevamo pareggiarla ma potevamo pure vincerla se non segnava se non faceva quel gol potevamo pure vincerla è normale no? se tu valuti solo quello che noi potevamo fare e quello che gli altri non hanno fatto facile facile abbiamo fatto lì per Zaccagni con Zaccagni anche avevamo un'occasione sì ma quando arriva Zaccagni è finito il primo tempo con 13 tiri loro 13 tiri di cui 7 dentro lo specchio della porta 7 e tu ne hai fatti 2 7-2 e allora volevamo contarli? allora finiva 7-2 il primo tempo volevamo contare un 7-2? forse è troppo? vogliamo contare un 4-2 che forse ci stava? hanno preso pure la traversa? ma che ragionamento è? che lettura della partita è? porca troia secondo tempo potevamo comunque pareggiarla sì ma nel secondo tempo avevano già fatto due tiri prima che Immobile andasse lì a pareggiarla poi dopo è però dopo è capito hanno fatto il 2-0 a quel punto sembra è crollato un po' tutto perché è stata più difficile ma il 2-0 è pure poco pure poco e secondo lui sono i 15 minuti e vi ripeto adesso ve leggetevi i vostri commenti che mi avete mandato perché a questo punto penso che siano più chiari di quello che posso dire io perché veramente ragazzi io non lo so non lo so cioè lui parla poi di eh ma abbiamo perso una battaglia ma la guerra è ancora lunga ma quindi non c'è un non c'è da fare adesso dichiarazioni di resa ma le dichiarazioni di resa le hai fatti tu 24 ore prima 24 ore prima caro Sarri andatevi a rivedere il video delle dichiarazioni perché mi ci sono avvelenato tu hai detto che arrivare ai quarti è un sogno bisogna essere concreti che non è quello che non possiamo non siamo le quattro forze quindi non siamo costretti ad arrivare lì nessuno non ci deve pretendere di poter arrivare al quarti non si può pretendere capito perché noi non siamo le quattro forze manco l'Atalanta è tra le quattro forze eppure ti ha spaccato il culo e ci sta lì a pieno titolo un ragionamento penoso 24 ore prima sei tu che ti sei reso il messaggio di resa l'hai fatto 24 ore prima 24 ore prima ti sei parato il culo e hai cercato di snobbare il quarto posto far capire che è un sogno che noi bisogna essere concreti quindi chi hai la guerra per vincere tu vinci una guerra per far cosa cosa vuol dire per te vincere la guerra arriva a quinti arrivare ai sesti quella è la tua guerra no perché 24 ore prima hai detto che è un sogno che al massimo se alla fine ti troverai lì ci proverai a prendere il quarto posto ma giusto così per sbaglio se stiamo lì per sbaglio questo hai fatto in tendo il 24 ore prima e oggi mi parli che non facciamo messaggi di resa che abbiamo perso solo una battaglia tu non hai perso ieri la battaglia tu l'hai perse da Salerno in poi contro la Seleritana in poi l'hai perse in sacco le battaglie partite che potevi vincere sei stato umiliato anche contro il Monza hai vinto 1-0 così così perché hai avuto un sacco di difficoltà io veramente ma veramente dobbiamo sentire ancora queste cose e ripeto state leggendo quello che voi scrivete questo Oscar Osarri questi messaggi sono arrivati tra il primo e il secondo tempo tra gente che stava a casa e gente che stava allo stadio ma tu tu l'hai vista che la squadra stava nella partita presi a pallonate presi a pallonate le tue scelte incominciano a essere discusse da molti anche da chi se le sosteneva io ripeto faccio parlare voi perché io mi ci avveleno perché dico sempre le stesse cose e soprattutto ripeto io posso sorvolare su tante tante cose ma poi se vogliamo andare a vedere le parole scusami Sarri ma tu all'inizio della stagione hai detto che avevi fatto non avevi fatto la Lazio non aveva fatto gli acquisti aveva fatto degli investimenti su dei giovani che sicuramente nel corso della stagione avrebbero dato il loro contributo e dove cazzo sta il loro contributo se non giocano mai perché poi hai cambiato idea perché poi hai detto che sono dei giocatori non pronti per dare una mano nei momenti decisivi nelle partite importanti ma cazzo ma che col Verona era una partita importante ma con Lecce era una partita importante cioè quali sono le partite perché ovviamente sono tutte seppure con l'ultima classifica non le hai fatti giocare perché per te era una partita importante vuol dire che questi non giocano mai cioè ma tu vedi che ragionamenti contorti contorti giocatori che hai detto che avrebbero dato una mano che per te andavano bene cioè investimenti ma che cazzo investimenti se non giocano mai tu l'investimento l'hai fatto crollare il valore dell'investimento non lo stai dando non lo stai dando neanche 10 minuti qui c'è gente che ti ripeto non devo essere io a di queste cose niente ragazzi come vedete come vedete non lo so come si fa a parlare ieri mi avete pure criticato qualcun paio mi hanno criticato perché non ho parlato della partita da Lazio ma che cazzo devo dire ma che devo dire che so due anni che dico faccio video su video e mi rompono pure i coglioni perché so io che non ho capito Sarri che so io non so vedere Sarri che non so e ripeto non è solo colpa di Sarri perché io ripeto e lo ripeto un miliardo di volte questo canale nasce per farvi capire che cazzo è Lodito andatevi a rivedere i primi video io apro questo canale con l'intento di farvi capire perché a quel tempo si parlava che Lodito era un grande presidente che la Lazio era una società sana che Lodito poteva permettersi di fare grandi investimenti si parlava quelle cose in quel tempo e io dicevo ma dove cazzo li vedete queste cose quindi sono stato uno di quelli che ha dato frontalmente dritto o forse uno dei primi a rompere i coglioni alla società in un momento in cui poi non stavamo ne manco fa malissimo però per me era assurdo che veniva considerata una società sana una società che invece lavorava male male su tanti fronti andatevi a vedere quei video quindi la società ha sbagliato e continua a sbagliare ed è limitata sì ma poi quello che io vedo le scelte che vedo le parole che sento del campo tra allenatore e giocatori perché non è solo Sarri perché poi le dichiarazioni di Milinkovic dopo il Milan ancora me ronzano se continuiamo a giocare così lo scudetto perché no ma le immortacci tua ma quale scudetto se continuiamo a giocare così non con il Milan così come dalla salernità da imposi così altro che scudetto le coppe cioè alla fine pure il Torino tra un po' te recupera arrivi settimo manco la conference tra un po' arrivi a giocare se continui così altro che scudetto ragazzi chiudo qui il video ripeto è un punto a capo speriamo di sì io ogni settimana dico ragazzi punto a capo vediamo perché è normale io da tifoso che cazzo devo fare devo sperare quindi devo rimettere un punto a capo dicendo vabbè è andata così sicuramente dalla prossima e dalla prossima e dalla prossima è normale che prima o poi arriverà la partita prima o poi arriverà non è possibile che noi le famo tutte così arriverà però poi non mi rompe i coglioni che per una partita ogni 10 che magari riesce bene ma hai visto Sarri hai capito Sarri perché io ho i video ancora me le ricordo quanta gente che è sparita in queste settimane che mi diceva solo tu sei rimasto a critica Sarri solo tu sei rimasto a non vedere il potenziale della Lazio ma come prima c'era il potenziale nella Lazio adesso sono tutti scarsi adesso adesso è realistico adesso c'ha ragione Sarri a dire che non siamo da quarto posto ma come quando invece le cose andavano dritte mi rompevate dicendo anche di fronte a queste prestazioni riesce a essere critico sì perché io una prestazione una tantum me la critico uguale sono contento di vedere la Lazio che vince sono contento di vedere che la Lazio gioca bene ma io le domande me le pongo uguale non mi fermo a una partita invece quanti di voi commentano una partita e poi speriscono per le altre 10 olive dolce grazie a tutti